Sono molto molto curioso di continuare con il Milan, faccio parte di questa famiglia e voglio dare ancora di più per tutto il club, la società, i tifosi e penso che è un gesto di far vedere a tutti che ho molto voglia. Quando sono arrivato e ora il percorso che abbiamo fatto, che stiamo facendo, fa parte dei miei obiettivi oggi, spero di fare ancora meglio con la squadra e personalmente anche. Abbiamo fatto un grande lavoro, stiamo facendo un grande lavoro perché la forza di una squadra è il gruppo e il gruppo è tutti, da magazzineri a loro che fanno la cucina, tutti, tutti, tutti. Ora siamo molto molto diversi rispetto a tre anni fa e speriamo di fare meglio, di dare meglio a tutti che seguono il nostro percorso. È un grande allenatore perché è una grande persona, conosce ogni giocatore, prende il tempo per conoscere ogni giocatore, per gestire ogni giocatore e quindi quando fai questo gestisci tutto un gruppo. Vuole sempre migliorarsi ogni giorno, ogni allenamento. Lui quando vinciamo tanto, lui vuole fare sempre meglio e quindi questo è la mentalità che ho anche io, quindi abbiamo gli stessi obiettivi e questo è molto importante di non avere limiti. Il mister è così, ecco perché ha fatto quello che ha fatto fino ad oggi e farà anche meglio sicuramente. Io faccio prima quello che mi chiede il mister, ma devo imparare molto, molto, molto ancora e sono al posto ideale per me per imparare queste cose. E sempre da quando mi ricordo la prima partita che ho fatto a San Siro contro Brescia era, mi fa sempre qualcosa di giocare a San Siro. Ogni partita non mi sono abituato ancora all'atmosfera, ai tifosi perché sembra che ogni partita fanno di più. Dobbiamo fare tutto per loro perché sono molto, molto, molto importanti per noi. Io sono molto, molto contento perché sento che c'è qualcosa tra me e loro e questo è molto importante anche per un giocatore. Abbiamo un gruppo giovani, giovani. Io mi sento vecchio e ho 25 anni, ma vuol dire che abbiamo tantissimo a imparare, a fare. Dobbiamo essere uniti con i più giovani, con i più vecchi anche. Voglio ringraziarvi tutti i tifosi. Oggi sono molto, molto felice di continuare questa storia insieme. Spero che scriveremo altre pagine della storia. Forza mille.